ciao ciao da Daniele e bentornato in questo nuovo video riguardante il nostro training su ClickFunnels allora ci troviamo come puoi vedere all'interno della nostra dashboard la dashboard è un po' il pannello di controllo che in tempo reale possiamo andare a visionare possiamo intervenire possiamo lavorare al suo interno per poter creare tutti i nostri funnel gestire varie fasi del nostro business anche a seconda della tipologia di account che abbiamo attivato come vedrai tra poco questa è la schermata non appena ti iscriverai quindi non appena ti iscrivi riceverai proprio questa schermata così come la vedi quindi con alcuni tutorial di base in realtà ovviamente in lingua lingua inglese ma potrai anche disattivarli perché essendo iscritto a questo training riceverai tutta la formazione che ti serve di cui hai bisogno e poi se la vorrai se sei iscritto anche a funnel ads potrai guardare anche l'area membri di questa di questa membership ma anche in questo caso in qualcosa di assolutamente facoltativo in quanto hai tutto ciò che ti serve per quanto riguarda la formazione in italiano grazie alla nostra iniziativa di legata appunto a click funnel in italiano allora a proposito di questo aspetto qui vedrai all'interno di questi di questo e degli altri video tutorial la schermata originale quindi così come si presenta in lingua inglese naturalmente ovviamente se hai la possibilità di tradurlo con il tuo browser ad esempio con la funzione traduci di google chrome potrai visionare questa stessa dashboard in italiano attraverso una traduzione automatica naturalmente che viene fornita da google in tempo reale non è una traduzione in italiano ufficiale da parte di click funnel io dal canto mio però ti mostrerò tutto ciò che riguarda la dashboard e tutto ciò che riguarda in generale click funnel in lingua originale così che tu possa prendere un attimino visione di quella che la pagina originale in modo da prendere maggiore familiarità anche con termini che comunque riguardano il marketing e che fa sempre bene imparare anche se la tua conoscenza dell'inglese attualmente è limitata e poi anche perché non è detto che tu voglia tradurre o abbia la possibilità di tradurre in tempo reale la dashboard e quindi dal canto mio mi interessa soprattutto farti divenire un esperto di click funnel e quindi lo faremo con la lingua originale nella maniera più assoluta ok nel momento della tua iscrizione vedrai un funnel di dimostrazione una demo per così dire però ovviamente nel corso del nostro training vedremo in maniera pratica in realtà come creare i nostri funnel allora da cose composte innanzitutto la nostra area riservata dal momento che siamo iscritti al momento della nostra iscrizione inizialmente abbiamo questo menu quindi la voce principale per così dire è quella dei funnel possiamo verificare quelli che sono i nostri funnel attualmente attivi che abbiamo attivato i contatti ricevuti le vendite questo soprattutto se abbiamo l'account elite naturalmente e poi il marketplace ovviamente possiamo anche aggiungere nuovi funnel però ripeto questo lo vedremo più avanti ok ovviamente se abbiamo anche come ti dicevo prima l'account completo l'account elite avremo anche a disposizione queste due sezioni vale a dire action ethics e backpack ovviamente capiremo di cosa si tratta più avanti possiamo anche verificare quelli che sono i dati del nostro account modificarli in qualsiasi istante e andare anche a settare alcuni parametri vitali di cui parleremo anche in questo caso più avanti hai la possibilità anche di contattare in qualsiasi momento l'help desk che è molto attivo attraverso una chat in tempo reale o attraverso dei ticket di assistenza puoi naturalmente subito avere l'aiuto che desideri molto efficace la chat poi abbiamo anche la documentazione con molti articoli e tutorial passo passo a proposito di account potrai vedere il riassunto delle tue informazioni qui in questa colonna di destra quindi vedrai il tuo nome la tua email di iscrizione vedrai il tuo avatar ripreso da gravatar se non è uno al cui potrai visionare anche un link che ti mostrerà come inserire il tuo avatar desiderato e poi vedrai in questo caso la tua iscrizione attiva in questo momento quindi per esempio nel mio caso full suite da 297 dollari al mese nel tuo caso vedrai il tuo piano attivato potrai visionare anche in temporale quelle che sono le statistiche generali di tutti i tuoi business quindi il numero di visite uniche le pagine che hai creato e i funnel attualmente attivati ok questo è molto molto importante inoltre cos'altro potrai vedere anzi potrai fare una rapida ricerca di quelli che sono i tuoi funnel all'interno del tuo dashboard questo è molto utile se ne hai più di uno se ne hai creati diversi addirittura puoi cercarlo per parole chiave quindi per esempio se io cerco opt-in come keyword in questo caso potrò naturalmente subito visionare quello che è il funnel in questione perché contiene questa keyword nel titolo oppure posso addirittura come vedi andare a visionare il funnel per categoria perché click funnel mi va a dividere a seconda della tipologia di funnel o di imbuto di marketing per dirsi voglia che ho creato quindi per vendita opt-in webinar membership auto webinar webinar reply lancio prodotto quindi product launch e così via ovviamente attraverso l'apposito pulsante come ti torno a dire possiamo creare i nostri funnel abbiamo anche però questi tag molto interessanti che ci vanno a ripilogare in prima battuta tutti i nostri funnel i funnel creati o modificati di recente attraverso questa tab anche essa molto utile per andare subito nel dettaglio di quello che stiamo magari cercando i funnel archiviati qui possiamo andare a visionare per 30 giorni almeno tutti i funnel che abbiamo disattivato dopo 30 giorni verranno cancellati definitivamente e non li potremo più riattivare quelli che però abbiamo disattivato entro 30 giorni attraverso questa tab possiamo tornare a visionarli attraverso un apposito pulsante che adesso qui non vedi li potremo anche riattivare ok a nostra descrizione qui abbiamo i funnel condivisi anche questo è molto interessante e i nostri marketplace queste due tab nello specifico sono attive solo per quanto riguarda gli account suite ok quindi con l'account definitivo da 297 al mese quindi questa è la panoramica che volevo darti in questo video per quanto riguarda la dashboard come vedi tutto molto semplice tutto facilmente raggiungibile ovviamente nei prossimi video vedremo nel dettaglio alcune delle funzioni vitali più importanti per quanto riguarda l'avvio dei nostri funnel del nostro marketing con appunto questo fantastico strumento click funnel questo è tutto per il momento ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao